Prosegue l'iter di realizzazione del parco Scarafone che una volta completato collegherà il terminal autobus di Campobasso con il parco San Giovanni. Per la realizzazione il comune ha beneficiato di fondi provenienti dal programma Italia City Branding dove sono interessate anche alcune aree del terminal. Iniziata così la procedura di es proprio dei terreni e a seguito di alcune richieste pervenute dai proprietari si è proceduto alla modifica del tracciato senza però stravolgere o interrompere sostanzialmente la progettazione già approvata. L'area che oggi dopo i primi sei lavori avvenuti una quindicina di anni fa appare completamente abbandonata. Nella riqualificazione ambientale dell'intera area si prevede di inserire all'interno di un percorso verde piazzole attrezzate per la sosta, aree destinate ad accogliere giochi per diverse fasce di età, aree dove praticare gli urban sport come uno skate park in grado di ospitare più discipline. L'idea è creare uno spazio innovativo che riunisca giovani e meno giovani di diversa estazione sociale.